Nell'era di internet anche il tradimento cambia le sue tradizioni. Certo, rimane sempre la formula tradizionale, ma spesso accade che le coppie scoppiano anche per i comportamenti che il partner tiene in rete. I social possono trasformarsi in trappole fastidiose che rovinano i rapporti. Che siano ex che grazie ai contatti si riaffacciano, oppure nuove persone che si incontrano virtualmente, i rischi sono sempre dietro l'angolo. Attenzione, perché se la coppia è sposata, anche dal punto di vista legale, il tradimento digitale può avere conseguenze serie. Ma allora, cosa dovrebbe fare una coppia per non incappare in un ruzzolone che potrebbe fare male? La fiducia reciproca deve rimanere sempre alla base di un rapporto e i social, se usati correttamente, diventano innocui da questo punto di vista. Per proteggere la propria relazione dall'influenza dei social è essenziale la trasparenza. Fondamentale anche stabilire dei confini chiari e condivisi. La coppia dovrebbe parlare apertamente dei propri comportamenti nei social e con naturalezza dovrebbe stabilire i limiti da non superare. Grazie. Grazie.